Io dirigo un luogo di condanna per i ferrati delitti. No, io voglio assaltare. Allora, nuova creatura! Te lo vedremo che ha ucciso un Bert. Te lo prometto. Andrò dove nessun altro vuole andare. Non deve succedere mai più che colpiscano un agente, né un altro membro dell'amministrazione. Iscriviti al nostro canale! Ah? Grazie a tutti.